ora questo video io non lo stacco completamente tutto live tagliate che panunzo di casa della mamma di vasa che ho fatto panunzo di casa e andiamo a tagliarlo guardate che bello morbido questo l'ho fatto l'altro giorno ecco qua guardate 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 che meraviglia olio essa meraviglia di olivia e questo è uno poi ci andiamo a mettere dolce su un punto la nostra provoletta affumelata tagliata fettì stasera muita talla 1 2 e 3 alle 120 23 come internazionale non c'era nata fredda mettiamocela meglio abbondare meglio swicciare che mancare ecco pomodoro di casa e la mamma di vasa date che pomodoro rosso rosso internazionale bene arrivando a questo punto domani te lo conto ci mettiamo ma proprio una pizzicaterra di sale proprio perchè già la pittatella è salata ecc ma abbiamo questo qua è rimasto lo mangiamo e poi ci mettiamo un'andicchia re pe 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 ragazzi siamo pronti per la chiusura e il nostro panino è pronto adesso lo andiamo a tagliare sembra il diretta live una, due, tre alle 123 come, come, internazionale una, due, tre il panino a me buona cena cosa internazionale ragazzi anche per stasera la cena è servita vi auguro buona carata a tutti quanti voi come come alla prossima ciao